erano in grande imbarazzo sara un viaggio urgente da fare un malato grave mi attendeva in un villaggio distante dieci miglia un fitto nevischio riempiva tutto lo spazio esistente fra me e lui avevo una carrozza leggera dalle ruote grandi proprio come ci voleva per le nostre strade di campagna avvolto nella pelliccia con la borsa degli strumenti in mano me ne stavo già nel cortile pronto per la partenza il cavallo però mancava proprio il cavallo il mio era morto la notte prima esausto dalle fatiche compiute in quell'inverno gelido la mia domestica correva da ogni parte per il villaggio per avere un cavallo in prestito ma non c'era da sperarlo lo sapevo e sempre più carico di neve sempre più intirizzito me ne stavo lì senza scopo sul portone apparve la donna sola oscillando la lanterna è naturale chi presta il suo cavallo a quest'ora per una tale gita percorsi ancora una volta il cortile non mi riusciva di trovare alcuna soluzione distratto tormentato urtai col piede la porta sconnessa del porcile che già da anni non serviva più la porta si aprì oscillando sui cardini in qua in là ne uscì un fiato d'aria tiepida e un odore come di cavalli dentro una lanterna fumicata oscillava da una corda un uomo rannicchiato in quel basso stanzino mostrava il suo viso aperto dagli occhi azzurri devo attaccare mi domandò avanzando carponi non sapevo che rispondere e mi chinai solo per vedere cosa ci fosse ancora nella stalla la domestica mi era accanto non si sa mai quel che si ha in casa propria disse e ridemmo entrambi olà fratello la sorella gridò l'ostalliere e due cavalli due bestie dai fianchi poderosi si spinsero uno dopo l'altro con le gambe strette al corpo piegando le belle teste come cammelli facendo forza soltanto col tronco fuori dall'apertura della porta e la riempivano tutta ma subito si rizzarono in piedi alti sulle gambe e dai loro corpi si sprigionava un denso vapore aiutalo dissi e la ragazza corse volonterosa a porgere all'ostalliere i finimenti della carrozza ma appena vicina a lui egli la ferrò e accostò il suo viso a quello di lei che gettò un urlo rifugiandosi presso di me due file di denti erano impresse rosse sulla sua guancia bestia gridai furibondo vuoi che ti frusti ma subito mi torna in mente che è un estraneo che non so d'onde venga e che mi aiuta spontaneamente quando tutti gli altri mi lasciano in asso come se indovinasse i miei pensieri egli non si risente della mia minaccia si volta soltanto sempre occupandosi dei cavalli per un momento verso di me salite mi dice poi e infatti tutto è pronto mi rendo conto di non aver mai viaggiato con un attacco così bello e salgo su tutto contento guiderò io però non conosci la via dico certo risponde non penso neanche di venire resto con rosa no grida rosa che di corsa si rifugia a casa presentendo giustamente l'ineluttabilità del suo destino sento il tintinnio della catena messa alla porta lo scatto della serratura osservo inoltre che passando di corsa dall'atrio in tutte le stanze spegne tutti i lumi per rendersi introvabile vieni con me dico all'ostalliere altrimenti rinuncio alla gita per quanto sia urgente non mi viene neanche in mente di pagarla con la ragazza su allegri dice lui e batte le mani la carrozza viene strappata via come un tronco nella corrente sento ancora come la porta della mia casa schianti e vada in pezzi sotto l'assalto dell'ostalliere poi occhi e orecchi mi si riempiono di un sibilo che penetra allo stesso modo tutti i miei sensi ma anche questo dura solo un istante perché come se proprio di faccia al mio portone si presentasse la casa colonica del mio malato eccomi già arrivato i cavalli sono fermi non nevica più il chiaro di luna è tutto intorno i genitori del malato si affrettano a venirmi incontro seguiti dalla sorella mi sollevano quasi di peso dalla carrozza dai loro discorsi sconnessi non riesco a capire niente nella camera del malato l'aria è quasi irrespirabile la stufa trascurata da tutti fuma aprirò la finestra prima però voglio vedere il malato magro senza febbre non freddo né caldo con gli occhi spenti senza camicia il ragazzo si solleva sotto il piumino mi si attacca il collo sussurrandomi dottore lasciami morire mi guardo intorno nessuno ha udito i genitori se ne stanno in silenzio protesi ad aspettare il mio parere la sorella ha portato una sedia per la mia borsa io l'apro e cerco tra i miei strumenti il giovane continua sporgendosi dal letto a cercarmi a tastoni per ricordarmi la sua preghiera prendo una pinzetta l'esamino alla luce della candela e la rimetto a posto sì penso maledicendo in questi casi gli dai aiutano mandano il cavallo che manca ne aggiungono alzi data l'urgenza un altro ti regalano perfino lo stalliere ora soltanto mi ritorna in mente rosa che fare come salvarla come strapparla alle grinfie di quello stalliere a dieci miglia lontano da lei con una pariglia indomabile dinnanzi alla mia carrozza questi cavalli che hanno allentato in qualche modo le cinghie spalancano non so proprio come le finestre dal di fuori affacciano ognuno da una finestra la testa senza lasciarsi impressionare dal grido di spavento della famiglia per vedere l'infermo torno subito indietro penso come se i cavalli mi avessero invitato al viaggio di ritorno ma intanto lascio che la sorella credendomi stordito dal calore mi tolga la pelliccia mi si prepara un bicchiere di rum il vecchio mi batte sulla spalla questa familialità è giustificata dall'avermi offerto il suo tesoro scuoto la testa mi sentirei a disagio nell'angusto mondo del vecchio soltanto per questa ragione rifiuto di bere la madre è vicina al letto e mi ci attira obbedisco e appoggio mentre uno dei cavalli nitrisce forte verso il soffitto il capo sul petto del ragazzo che rabbrividisce a contatto della mia barba bagnata mi han confermato quel che già sapevo il giovane è sano la circolazione del sangue è un po scarsa la madre premurosa gli ha dato un po troppo caffè ma è sano e la miglior cosa sarebbe buttarlo fuori del letto con uno spintone non essendo un riformatore del mondo lo lascio sono un impiegato del distretto e faccio il mio dovere fino all'estremo fin quasi all'eccesso pagato male sono generoso e pietoso coi poveri ho ancora da provvedere a rosa poi avrà ragione il giovane e anch'io voglio morire che faccio qui in quest'inverno senza fine il mio cavallo è morto e non c'è nessuno nel paese che mi presti il suo dal porcile devo tirar fuori il mio attacco se non fossero per caso dei cavalli dovrei farmi trainare da maiali è così e faccio un cenno con la testa alla famiglia non sanno nulla loro e se anche lo sapessero non lo crederebbero a scrivere ricette ci vuol poco ma intendersi poi di tutto il resto con questa gente è difficile la mia visita sarebbe dunque finita mi hanno chiamato anche questa volta senza ragione ti sono abituato ricorrendo al mio campanello notturno tutto il distretto mi tortura ma che questa volta debba sacrificare anche rosa questa bella ragazza che per degli anni è vissuta senza che quasi la notassi in casa mia questo sacrificio è troppo grande e occorre che con qualche cavillo mi entri in testa in qualche modo altrimenti mi ferrebbe voglia di scagliarmi contro questa famiglia che anche la migliore buona volontà non può rendermi rosa quando però sto per chiudere la mia borsa accennando che mi si porga la pellizza e la famiglia sarà adunata il padre aspirando l'odore di rum del bicchiere che ha in mano la madre probabilmente delusa e che si aspetta da me la gente e si morde le labbra con le lacrime agli occhi e la sorella che agita un pesante asciugamano intriso di sangue mi sento in qualche modo pronto ad ammettere anche che il giovane è forse davvero malato mi avvicino a lui egli mi attende sorridendo come se gli portassi quasi un brodo ristretto ah ecco che tutti e due i cavalli nitriscono questo chiasso predisposto certo in alto luogo ha lo scopo di facilitare la mia visita medica ed ora ho trovato sì il ragazzo è malato sul fianco destro verso l'anca è aperta una ferita grande come il palmo di una mano di color rosa in diverse gradazioni scura in fondo più chiara verso gli orli leggermente granulosa col sangue raggrumato a chiazze aperta come la bocca di una miniera vista da lontano è così ma da vicino appare ancora più grave e come guardarla senza ansar lievemente dei vermi lunghi e grossi come il mio dito mignolo rosei di suo spruzzati anche di sangue brulicano trattenuti all'interno della ferita con le testine bianche e le numerose zampine tendenti verso la luce povero ragazzo nessuno ti può aiutare ho scoperto la tua arrenda ferita questo fiore nel tuo fianco ti farà morire la famiglia è felice perché mi vede all'opera la sorella lo dice alla madre questo è il padre e il padre ad alcuni ospiti che entrano in punta di piedi tenendosi in bilico con le braccia distese dalla porta rischiarata dal lume di luna mi salverai? sussurra singhiazzando il giovane abbagliato dalla vita che ferve nella sua ferita così è la gente del mio paese chiedono dal medico sempre l'impossibile la vecchia fede l'hanno perduta il parroco se ne sta a casa a sfilare le sue pianetine una dopo l'altra ma il medico deve provvedere a tutto con la sua leggera mano di chirurgo e va bene come volete io non mi sono offerto se anche volete abusare di me per altri fini non mi oppongo che può capitare di buono ancora a me vecchio medico condotto privato della mia vita domestica e vengono i familiari e gli anziani del villaggio e mi spogliano un coro di scolari col maestro in testa sta davanti alla casa intonando una melodia molto semplice su queste parole spogliatelo e sanerà se non lo fa ammazzatelo non è che un medico eccomi spogliato con le dita nella mia barba la testa piegata da una parte guardo tranquillo questa gente mi sento perfettamente calmo e superiore a tutti e lo rimango anche benché non mi serva a nulla perché già mi prendono per la testa e per i piedi e mi mettono a letto verso il muro dalla parte della ferita mi mettono poi tutti se ne vanno dalla camera la porta viene chiusa il canto cessa delle nubi oscurano la luna sento il tepore delle coperte intorno a me come ombre si vedono oscillare le teste dei cavalli nei vani delle finestre sai mi sento dire all'orecchio la mia fiducia in te è molto scarsa anche tu sei capitato chissà da dove non sei venuto di tua volontà invece di soccorgermi mi togli un po' di spazio perfino nel mio letto di morte ti caverai volentieri gli occhi è giusto dico io è una vergogna ma io sono un medico cosa devo fare credimi la vita non è facile neanche per me di questa scusa mi devo contentare ahimè lo farò sempre mi devo accontentare sono venuto al mondo con una bella ferita è stato tutto il mio corredo mio giovane amico gli dissi il tuo errore è di non avere il colpo d'occhio che ci vuole io che sono stato già in tutte le camere di malati dappertutto ti dico la tua ferita non è poi tanto brutta è prodotta con due colpi d'accetta ad angolo acuto molti offrono il fianco e sentono appena l'accetta nel bosco tantomeno quando si avvicina è proprio così o nella febbre che tu mi inganni è proprio così prendi con te la parola d'onore di un medico condotto ed egli se la prese e non fiato più ma ora era tempo di pensare alla mia salvezza i cavalli stavano ancora fedeli al loro posto la ferrai in furia vestiti pelliccia e borsa non volevo perder tempo a vestirmi se i cavalli si fossero affrettati come all'andata sarei per così dire saltato da quel letto nel mio uno dei cavalli si ritirò docile dalla finestra gettai l'involto nella carrozza la pelliccia volò troppo lontano e rimase attaccata soltanto con una manica ad un gancio bastava saltai in groppa al cavallo le redini erano allentate e strascicavano un cavallo era appena legato all'altro la carrozza veniva dietro traballando la pelliccia per ultima nella neve su allegri dissi ma non c'era allegria lentamente come dei vecchi si avanzava nel deserto di neve a lungo ecceggiò dietro di noi il nuovo ma errato coro dei bambini allegratevi o pazienti il medico è con voi nel vostro letto in questo modo non tornerò mai a casa la mia florida clientela è perduta un successore mi deruba ma senza profitto perché non mi può sostituire nella mia casa fa da padrone lo schifoso stagliere rosa è la sua vittima non ci posso neanche pensare nudo esposto al gelo di questa maledettissima epoca su una carrozza realmente esistente tirata da cavalli irreali vado attorno vagando povero vecchio la mia pelliccia penzola dietro la carrozza ma io non la posso raggiungere e neanche uno tra la gentaglia inquieta dei pazienti muove un dito sono stato ingannato ingannato una volta da Toretta al falso allarme del campanello notturno non c'è più rimedio non c'è più rimedio non c'è più rimedio non c'è più rimedio